Ciao a tutti, sono Arkady Nammer, benvenuti, continuiamo il nostro viaggio con il mistero della pietra azzurra. Allora, per chi la sta seguendo, la sta rivedendo, com'è? Che emozioni vi dà? Ora, questo è il penultimo blocco, penultimo video, perché faccio la fine, ma non è l'ultimo video che farò, perché ce ne sono almeno altri due. Uno sui personaggi, le mie scene preferite, immancabile dopo ogni fine serie, e poi vi parlo nel film, nel due anni dopo, su il mistero di Fuzzi, che è terribile, ma ne parliamo, perché alcuni se lo ricordano bello, ma bello non è affatto, affatto. Quindi, dove siamo arrivati? Sì, facciamo un mini riassunto, molto veloce, ormai siamo verso la fine, Giovanni e Nadia si incontrano a Parigi, lei ha, Nadia, questo fantastico leoncino King, è una pietra azzurra che si illumina quando c'è un pericolo, in realtà sulle tracce della pietra azzurra ci sono i simpatici Anson, Sansone e Grandis, che poi diventano buoni, perché all'inizio vogliono rapire Nadia per la pietra, ma il vero nemico è Gargoyle, che è a capo di Neo-Atlantide, che è considerato il villain, perché c'è Nemo, cioè il capo di Tartesso, il re di Tartesso, la vecchia Atlantide, quindi c'è uno scontro tra questi due, ovviamente, essendo Nemo il buono, i nostri, quindi Anson, Sansone e Grandis, King, Marie, Jeanne e Nadia faranno parte dei buoni, fra virgolette, e quindi devono affrontare Gargoyle, che però è più scalda, è più tecnologica, ha più risorse, rischia di metterli fuori uso e quasi fa fuori il Natilus, quindi si trovano su un'isola deserta e da qui scopriamo che quell'isola non è un'isola, ma in realtà una nave degli Atlantidei, quindi eravamo rimasti là con il colpo di scena finale, dove Nadia scopriva dentro quest'isola che c'era un modo per comunicare con questa nave attraverso la pietra azzurra e scompariva oltre un muro davanti a un Jeanne che non capiva bene cosa stesse per succedere. Questa è la storia, ecco. In breve, ah, una cosa ragazzi, dovete scrivervi perché puntiamo ai 1250 iscritti, ho portato un sacco di contenuti, non ho il ritorno che meriterei, quindi iscrivetevi e abbonatevi se vi va col tasto qua sotto, poi se mi viene in mente altro ve lo dirò. Quindi incominciamo subito con la parte successiva, 31-35. Siamo rimasti che, per sbaglio, Jeanne e Nadia sono andati in una parte, diciamo, metallica, meccanica, un sottomondo di quest'isola che si scopre essere simile alle alte basi Atlantidei, quindi la pietra azzurra si illumina e essenzialmente Nadia scompare oltre questo muro con Jeanne sconvolto. E qua scopriamo una parte bellissima, che poi è quella che si collega alla parte finale. Perché? Che cosa abbiamo? Che lei diventi ignuda come Terminator e c'è questa pietra azzurra che la illumina e parla proprio con il Red Noah, con l'intelligenza artificiale, fra virgolette, di questo Red Noah, che pare un IA, tipo al 9000 di 2001, quando si sa nello spazio. E cosa dice il nostro Red Noah? Come comunica? intanto montaggio parallelo di grandi stanzo, gli altri che stanno cercando di far volare il gratan, devono solo cucire il pallone o comunque fare queste cose, e quindi c'è un montaggio alternato action, essenzialmente, dove siccome il Red Noah si sta liberando, liberando, si sta riattivando quest'isola, almeno il terreno che c'era sopra viene fatto distruggere dallo stesso Red Noah e quindi chi ci sta sopra rischia di morire, tra cui i nostri eroi. Quindi Jeanne non vuole andarsene senza Nadia e c'è questo salvataggio in Estremis adesso ci arriviamo. Comunque, cosa dice Red Noah alla nostra Nadia? Dice che, il punto più importante, che in realtà Atlantide non è un prodotto umano, perché non è stato mai detto fino a qui. Si è sempre detto Atlantide ha una grande tecnologia e che ha sempre governato sulla Terra, erano in pochi, come viene poi detto, quindi via tanti dei hanno usato gli esseri umani, e come si dirà qua, mi pare, hanno spinto l'evoluzione che c'è fra la scimmia e l'uomo erectus, perché hanno sfrutta questa cosa che la scienza non riesce a confermare il passaggio fra la scimmia e l'uomo erectus. Ecco, la serie ti dice che è stata una manipolazione genetica degli Atlantidei che avevano bisogno di schiavi, che essenzialmente questo rende il credo di Gargoyle molto più forte. Quindi dice che gli Atlantidei vengono allo spazio. Ovviamente Nadia, essendo figlia di Nemo, quindi una vera Atlantidea, è aliena. E il Red Noah spiega che la pietà azzurra è quella che viene definita, è stata definita per tanto tempo alla pietà filosofale e che il suo vero nome è Trismegisto. Si suppone che siano tre, infatti Nemo, l'imperatore, il fratello di Nadia e Nadia stessa. Forse la pietà di Nadia era quella che era stata data alla moglie di Nemo, e quindi erano sempre tre, vabbè, insomma, non lo so. E quindi è molto interessante perché Nadia conosce se stesso e scopre da dove è arrivata e dove deve puntare, dove è nata, a Tartesso, che in effetti era il titolo che aveva Nemo, no? La vecchia Tartesso, nuova Tartesso. Ma Nadia non vuole prendere il controllo della nave, perché non vuole usare questo mezzo per portare guerra, perché solo chi possiede la pietà azzurra può governare queste navi, ok? Quindi, e questo ci torna utile dopo, essenzialmente il Red Noah, che non viene usato da Nadia, viene usato da Gargoyle, come? Attraverso la pietà azzurra dell'imperatore, il fratello di Nadia. Quindi, questo mi piace molto quella parte, poi, a livello visivo e straordinario, con questa luce che illumina tutto, è straordinario, assolutamente straordinario. La parte action, dove lei ovviamente fa, no, io non la voglio governare, lasciami in pace. Però è interessante come il nostro Red Noah dica, va bene, principessa, ti lascio andare, se il tuo volore è questo, ma rischia di farla ammazzare, perché l'isola sta andando in frantumi, e quindi Jean deve salvarla, o con il Grata anche arriva, è ok. Qua inizia la seconda parte filler che odio, che è molto simile a quella dell'isola, tanto criticata non solo da me, ma anche dai critici al tempo, ho trovato diversi articoli su questo fatto, perché devono, c'è un punto di contatto con l'episodio 30, 35, quindi c'è un buco di tre episodi, 32, 33, 34, dove loro devono raggiungere il lago, dove poi inizia un'altra parte della storia, un minimo di interesse c'è pure, ma è, sia a livello di sceneggiatura, sia come disegni, è brutta, è fatta male, perché loro arrivano così a caso, perché in fuga dal Gratan, no, in fuga da Gargoyle, che aveva mandato un Garfish per seguire il Red Noah, ok, perché poi se ne imposteranno dopo, uno dei Garfish aveva colpito, guarda un po', proprio il pallone del Gratan, che era finito, guarda un po', nella vecchia Tartesso, non dove sono stati nella abbazia, lì dove sono stati tutti i morti, il funerale, no, no, dove è nata Nadia, guarda un po', finiscono in Africa, vabbè, poi c'è a sta parte dove devono fare un po' ridere, perché c'è il triangolo, no, non l'avevo considerato, perché Nadia si innamora di questo tale, ah, prima c'è la scenetta in cui vengono presi, loro pensano di essere delle sorte di divinità, in realtà devono essere cucinati, tipica scena di quegli anni, vabbè, e c'è questo tale, si chiama, ama, ama, questo bel giovine, che fa un po' il provolone con Nadia, e sentivamente lei subito risponde, in questo senso, dice, ah, ma io so che la tua pietà azzurra, tu sei una regnante, perché qua, un tempo, c'erano gli atanti dei, quelli che sono definiti gli atanti dei, ah, che ci hanno lasciato questi grandi tesori, che gli estranei, gli europei vogliono rubarci, quindi noi riconosciamo quella pietà, posso dirti, darti delle informazioni, su poi dove devono arrivare. Ovviamente, per complicare un po' le cose, devono salvare King, da chi? Dal primo amore di Grandis, che è diventato un avventuriero, avido di denaro, salvano King, cioè, sta parte è proprio inutile, è una tipica cosa, che la produzione aveva chiesto di, aggiungere nove episodi ai 30, e quindi, cinque, sei episodi sull'isola, tre di qua, e ci sono arrivati, fare sta schifezza di filler, vabbè, e arriviamo alla parte cicciosa, ok? Quindi gli ultimi due episodi, no, l'ultimo episodio, perché qua chiudiamo col 35, ovvero, buon compleanno Nadia, questa parte è bellissima, perché finalmente, ah, c'è anche il 34esimo episodio, solo in Giappone, cioè di, che è uno spiegone della serie, e questo spiegone è fatto con la, con una canzone, che Jeanne dedica a Nadia, per riconquistarla. Poi abbiamo visto nella serie, che Jeanne è uno che canta, suona, sì, sì, proprio, sì, comunque, 35, dicevo, leggo due righe qua, i protagonisti arrivano a un lago, e la pietra azzurra inizia a brillare, Nadia in uno stato di parziale, trance, e utilizzando il potere del gioiello, guida i compagni, nel relitto di un'immensa nave spaziale, nascosta sotto il lago. Questo è il blu Noah. Red Noah, blu Noah, un'altra nave, degli Atlantidei, questa è una parte bellissima, perché hanno gioca sul bianco e nero, mentre scendono giù, abbiamo che si illumina solo la, la pietra, è tutto in bianco e nero, e lei è in uno stato di trance, è quasi aggressiva nel modo di esporsi, e quando trovano un muro, la pietra li fa avanzare, e quindi essenzialmente noi capiamo il grande potere, gli Atlantide e degli eredi della pietra azzurra, e arrivano in questo posto meraviglioso, che è la cattedrale sommersa, e qua si spiega, lo sarebbe detto prima, ma in ogni caso si spiega, che i superstiti del blu Noah si stabilirono in Africa, e fondarono Tartesso, e quindi in una scena fantastica, arrivano in alto di questa cattedrale, e lei spiega che è un'aliena, e che non vuole accettare più questo ruolo, e quindi si uccide, si lancia giù, ma, come scopriamo dopo, la pietra l'ha salvata. Come abbiamo visto più volte nella serie, Nadia cerca di disfarsi della pietra azzurra, ma questa è magica, e quindi le torna indietro. Lei quasi toglie la vita addirittura, perché ha capito che non può evitare questa guerra con Gargoyle, e non vuole essere messa al centro di questa vicenda. Se si uccide, Grandis si arrabbia, qua torna il colore, e le dà uno schiaffo, ma la puntata si chiude in modo bellissimo, poetico, perché arrivano alla base della cattedrale, e Nadia riesce a leggere una targhetta che c'era lì, dove si dice essenzialmente che il giorno del complano di Nadia, e qua Nadia capisce che è tornata a casa, quindi tutto il senso della serie, voglio tornare a casa, voglio andare in Africa, finalmente ci siamo arrivati, e qua festeggiano il complano di Nadia, che guardo un po', è proprio il giorno in cui sono arrivati nella cattedrale sommersa del Blue Noah, coincidenza, ma come abbiamo saputo, anche dalla balena, il destino governa, questo Corre degli Eventi, quindi non è una coincidenza, ma è un po' come le pergamene del Mar Morto di Evangelion, quindi non è tanto lontano il discorso, possiamo aggiungere qualcosa, ah sì, sì, la Torre di Babele, che abbiamo visto in più momenti, per distruggere qualunque cosa, e che si connette con i satelliti, di Atlantide, non serviva solo per distruggere, ma serviva per trasmettere nello spazio, perché gli Atlantidei erano precipitati sul pianeta Terra, e volevano tornare a casa, e da qui quello che scopriamo dopo, cioè il Blue Noah e il Red Noah, possono volare nello spazio, perché loro vengono dallo spazio, e stavano cercando il modo di tornare a casa. Interessante un altro spunto, che si poteva pensare, dedurre, che il male di Atlantide fosse stato cargoyle, fra virgolette, cioè il fatto che si fosse imposto, e si fosse messo contro Nemo, in quel posto che poi è stata la cattedrale, dove abbiamo visto svolgersi quei funerali, è stata colpa di gargoyle, in realtà anche la prima tartesso, che è questa, è distrutta, è stata distrutta dalla pietà azzurra, per diverse ragioni, che qua non vengono spiegate bene, quindi il senso è che, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, ecco, un po' alla Spider-Man, e questa pietra è davvero terribile, quindi il fatto che Nadia se ne voglia disfare, ha senso, il fatto che Gargoyle la voglia, ha senso, il fatto che Nemo e gli altri abbiano affrontato una guerra, per avere sta cazzo di pietra azzurra, ha senso, capite? dove voglio arrivare? Ok, la prossima volta chiuderemo la serie, con molto dispiacere, perché è straordinario, il finale è di una bellezza sovra, umana, va bene ragazzi, quindi, mi invito a iscrivervi, a condividere questo video, a supportarmi, ad abbonarvi, perché me lo merito, ragazzi, io vi porto tanti contenuti, e lo faccio per me, ci mancherebbe, però anche voi, dai, ok, commentate qua sotto, per quello che vi pare, ciao!